Match domenicale di mezzogiorno per l'Atalanta di scena all'Artemio Franchi di Firenze, stadio da cui è uscita vittoriosa negli ultimi due campionati di Serie A. In questa stagione la squadra di Gasperini sembra avere un conto aperto con i Viola, che nel turno di andata a Bergamo hanno vinto grazie a due calci di rigore trasformati da Vlaovic, nel frattempo passato alla Juventus, mentre nella recente partita secca di Coppa Italia ha fatto centro, sempre dal dischetto, due volte Piontek. Grande attenzione all'area di rigore dunque, ma anche alle palle inattive, dal momento che la Fiorentina può contare su uno specialista come Biraghi. Tre pareggi e una sconfitta negli ultimi quattro turni per l'Atalanta, che a Firenze si presenta senza attaccanti di ruolo. Problemi ai flessori hanno fermato anche Muriel, dopo Zapata e Mieranciuk, mentre Ilicic è sempre indisponibile. In difesa mancherà anche Palomino. Gasperini costretto così a proporre la formula con il falso 9, con uno tra Pasalic, Kupmeiners e Pessina, pronto ad adattarsi al ruolo. Un apporto fondamentale è atteso anche dagli esterni. L'Atalanta deve difendere l'imbattibilità fuori casa, dove ha conquistato 30 dei 44 punti. In caso di successo, aggancierebbe al quarto posto la Juventus a quota 47, avendo ancora da recuperare la gara con il Torino. Al di là delle assenze nell'organico, Firenze potrebbe essere la piazza giusta per tornare alla vittoria e riproporsi stabilmente in zona Champions. Per tutte le notizie vi rimando a zonamistamagazine.com